Il presidente della regione siciliana Renato Schifani ha partecipato questa mattina alla seduta di insediamento della diciottesima legislatura dell'Assemblea regionale siciliana. Ad accoglierlo a Palazzo dei Normanni il presidente dell'Assemblea uscente Gianfranco Micicchè. I due si sono soffermati qualche minuto a parlare in sala cinese. Mistero su cosa i due esponenti politici di Forza Italia si siano detti, ma davanti ai cronisti la frase che è uscita è tutto un programma, non abbiamo nessun accordo. Mentre secondo quanto emerso negli ultimi giorni le cose sembravano essere diverse. L'atmosfera non sembra essere delle più rilassate tra i due anche perché l'ex presidente Arsa ha dichiarato di sentirsi tenuto al di fuori della maggioranza e di reputare il governo che sta nascendo peggiore di quello che lo ha preceduto. La nuova legislatura regionale sembra dunque iniziare all'insegna delle liti interne al partito del presidente della regione.